Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su un nuovo video un po' diverso dai altri ragazzi Perché oggi vi parlerò della mia GoPro E di quali acquisterò in futuro Allora ragazzi La mia GoPro che ho in questo momento E' questa Scusate se è mezza aperta Comunque è questa qui Come potete vedere Aspettate che vediamo se l'ho messa bene Bene E' questa ragazzi Dovebbe essere una SJ4000 ragazzi Comunque Guardate se io ci tolgo anche la protezione Alla fine è questa E' questa qui Vediamo se si vede Spero si veda Anche lo schermetto di dietro che si vede Tipo cosa state registrando in questo momento Vediamo anche se l'accendo Guardate Come potete vedere Si vede tutto Si vede tipo io Ciao Comunque ragazzi La grafica non è delle peggiori 1080p ragazzi Di Di grafica Però ragazzi Non è buona per Cioè Si è buona per fare video tipo a curva Non è eccellente Al 100% Quindi ragazzi In futuro vediamo Voglio acquistare Una GoPro che ho visto Qualche giorno fa Su internet Comunque ne parleremo Più Più tanto Nando ragazzi vi farò vedere La grafica di questa GoPro Per farvi fare un'idea Di come Questa Mia Questa mia telecamera Iscriviti al canale Alessandro come avete potuto vedere ragazzi la grafica non è delle peggiori però sempre ragazzi non è buona per fare dei video decenti quindi tipo quest'estate ragazzi vediamo se potrò acquistare acquistate vabbè ragazzi poi appena finirà la scuola non lo so verso fine estate vediamo ragazzi vorrei acquistare una gopro hero 4 silver ragazzi quella con uno schermino tipo questo la black no perché tipo non hanno schermetto di dietro quindi a me mi serve lo schermino per vedere se va tutto bene e ragazzi vediamo ora vi faccio vedere un'immaginetta di questa gopro hero 4 e ragazzi è l'ultima è l'ultima delle gopro uscite quindi dovreste conoscerla anche voi allora ragazzi è questa qui è questa aspettate che mette a fuoco perfetto come potete vedere allo schermino tipo come questo e ragazzi però non ha niente a che vedere con questa qui comunque vediamo ragazzi vorrei acquistare tanto questa gopro comunque ragazzi ho visto alcuni video come potete vedere guardate sg4000 vedete fake ragazzi fake vedete questi occhio al clone della vedete quello mio ragazzi dovrebbe essere un clone che se vedete ragazzi è uguale a questi mentre quello originale aspettate ragazzi no no sto dicendo una cazzata ah no ragazzi è la mia è quella originale però sembra una nego pro è originale ma non è proprio non è neanche della sicam sencica oppure non è neanche wifi però io tipo ve le passo con il computer comunque ragazzi niente per questo video è tutto volevo parlarvi un po' della mia gopro e di quale acquisterò in futuro forse e niente ragazzi già vi ho detto che io acquistare questa gopro hero 4 silver ragazzi ovviamente poi ci farò dei video di parkour epici con quella comunque niente ragazzi questo qui per il futuro vedremo se sarà possibile acquistarne una e niente ragazzi oggi c'è stata anche l'evento in balestra e non bisogna dire ti passare ragazzi ho fatto solo side tutto il tempo perchè me lo devo imparare bene e niente ragazzi per questo video è tutto spero vi sia piaciuto vi ricordo di ringraziare la pagina facebook e tutte cose e niente noi ci vediamo alla prossima bella